Ciao, sono Vincenzo Muscolo. Se parliamo di Shad, quindi di esche dal nuoto vibrante, il movimento sinuoso quasi naturale, che cosa vi viene in mente? A me viene in mente l'R.A. Shad è da oggi una nuova misura da 3.8 pollici, una misura ancora più versatile e adatta a più predatori, sia in mare che acque interne. Una mescola incredibilmente morbida e un corpo lamellare che conferiscono all'R.A. Shad una mobilità unica, anche in acque fredde e con recuperi ultra slow. Chiaramente anche nella misura da 3.8 pollici, ritroviamo il classico taglio della coda, con la particolare deriva che ci permette di utilizzare l'R.A. Shad con recuperi più veloci, perché evita la rotazione dell'esca. Anche in questa nuova misura abbiamo l'alloggio per l'amo, che permetterà un innesco ancora più accurato, sia piombato o completamente spiombato. Proviamo adesso a vedere qualche innesco. Dal classico innesco Texas League. Buong niesamo, buongi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. O semplicemente come trailer. Utilizzate il nuovo R-H-Shad da 3 pollice 8 con qualsiasi tipo di predatore, sia in mare che acqua interna. Un'esca adatta a tutti i predatori e a tutte le stagioni, anche quelle più estreme. R-H-Shad 3 pollice 8 con testino MTD. Subito! condizioni strane anche per il bus fishing perché è pieno di neve e fa molto freddo l'R.A. Chad ha stimolato un bus con questo freddo e con il lago praticamente ricoperto quasi tutto di neve a